Weee! Non fare il magazzino muffito! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Can you hear the dream? Rift Beacon si è attivato! Guardate! Guardate che storia! Siamo a pinnacoli e come vedete c'è un raggio che va nel cielo e inizia a creare un rift come quello che si vide nella Season 4! L'energia che passa attraverso questi cavi andrà probabilmente a portare nel nostro Battle Royale la nuova Tilted! Town! Una cosa meravigliosa anche il pad, chiamiamolo così, lo schermo ha cominciato a brillare, è di colore rosso e come vedete trasmette appunto delle informazioni, dei dati, dell'energia direttamente a questo fantastico Rift Beacon che ha un effetto veramente meraviglioso! Quindi ragazzi non ci si può fare nulla entrando però lo si può ammirare perché è davvero tanta tanta roba! L'evento della Season 10, il primo è iniziato, aspettiamoci di vedere prestissimo la nuova Tilted Town, magari addirittura con la patch di settimana prossima! Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo aggiornamento, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo in live alle 15! Ciao! Ciao! Ciao!